E non sarei cione, vuoi direttamente Le dinamiche, poi le vediamo insegnate Ma se iniziate a fare il piano del ripasso dell'emozione L'ultima parte a parte E poi quando me le chiedo le faccio Alla ritorno A poti entrare A poti entrare A poti entrare E magari in realtà Subito la mano è giusta Quindi A poti entrare A poti entrare A poti entrare E' tanto il rispetto è già giù A poti entrare A poti entrare A poti entrare E rile Visto Lavorare A poti entrare E che sono E che sono Ragazz者 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.